Allora c'era un certo dobbitudino alla punta, che possiamo dire qua, alla punta malattica, e questo qua faceva fare la sparata un giorno prima della novena, o domani, che era il 31 maggio, allora il primo giugno, alle 6 si faceva una bella sparata, dove incominciavano sparata prima a Monterrato, e poi all'Italia, faceva PUM! PUM! Sì, poi a mano a mano queste cose andavano perdendosi.